Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Per altri lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo è chiuso in entrata in direzione Firenze e in uscita provenendo da Livorno. In A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per lavori tra Fabro e Chiusi, corsie di sinistra chiuse per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per il traffico intenso code a tratti sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico Baccheraia. Un chilometro di coda per lavori tra Valdichiana e Chiusi verso Roma. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!